Assessore, va bene che l'intervento sul corso principale di Teramo era abbastanza articolato anche per quello che è stato trovato e quindi c'è stato anche lo stop da parte della sovrintendenza ora però i commercianti giustamente si chiedono ma i tempi, cronoprogramma, siamo un po' andati oltre? Noi non siamo andati oltre col cronoprogramma, noi abbiamo ancora una parte in cui la sovrintendenza ancora ci deve dare il via libera quindi stiamo lavorando dove appunto non abbiamo obblighi di prescrizione questi fondi li abbiamo avuto per i sottoservizi, significa realizzare dei manufatti sotto al pavimento poi è chiaro rifaremo anche il pavimento però noi la priorità è i sottoservizi quindi acque bianche e gaveti dove verranno inserite tutto ciò che è fibra e tutto quello che dovesse servire senza più scendere e rompere il corso oggi come puoi ben vedere stanno lavorando, hanno lavorato anche nel periodo di Ferragosto eccetto il 15 e il 16 però mi sembrava anche giusto e stiamo cercando di mantenere fede al cronoprogramma per quanto riguarda la pavimentazione io ho degli obblighi, quelli di controllo se sono arrivati i container con questi materiali è chiaro che ho chiesto che adesso va visto se questo materiale corrisponde a quello che è il capitolato quindi sono degli obblighi che io sto assolvendo non io personalmente ma tecnicamente il responsabile di cantiere che dovrà riferire a noi certificando tutti questi materiali appena io avrò questo via libera che tutto corrisponde a capitolato io do il via libera anche per posizionare il pavimento nella parte già finita però non ci sono dei ritardi, sono semplicemente delle incompense che vanno chiaramente come dire, messe sul campo e fatte realmente poi per quanto riguarda i ritardi della sovrintendenza io non posso prendermi queste responsabilità grazie